La giunta è ufficialmente azzerata. Stamattina si sono dimessi gli ultimi tre assessori ancora impegnati nell'attività amministrativa, l'esponente di un'altra gela Romina Morselli, l'autonomista Ivaliardi e il vice sindaco Terenziano Di Stefano che lasciano più o meno definitivamente. Difficile infatti dire se al momento si tratterà di un addio definitivo anche se è certo che l'azzeramento voluto dal sindaco su input della nuova DC non si è affatto piaciuto agli alleati. Ieri sera il confronto è stato piuttosto acceso e con l'addio degli ultimi tre assessori l'eventuale nuova maggioranza rimane tutta un enigma. Ci i vice autonomisti hanno spiegato di non essere per nulla convinti di un azzeramento che considerano totalmente al buio e che per le prossime settimane potrebbe determinare una paralisi della macchina amministrativa. Ma se per la Morselli e per lo stesso Liardi sembra che qualche possibilità di ricucire lo strappo ci sia, pare invece che sia definitivamente chiusa l'esperienza di governo del vice sindaco Terenziano Di Stefano che anche stamattina lo ha ribadito ai nostri microfoni prima di protocollare la lettera di dimissioni. Eravamo disposti ad andare fino in fondo a questo mandato proprio perché crediamo nella città di Gela, crediamo nel lavoro che abbiamo svolto sia in Giunta che in Consiglio Comunale e di tutte le cose positive che sono arrivate, molte delle quali a breve vedranno anche vita ma assolutamente siamo contrari ad un azzeramento o dimissioni che siano senza che ci sia diciamo una prospettiva al domani. Il cosiddetto azzeramento al buio lo abbiamo sempre contrastato e siamo assolutamente contrari. Di Stefano ribadisce di non avere nessuna intenzione di ritornare sui suoi passi e si dichiara pronto a dare battaglia in aula consigliare. Noi non vediamo assolutamente una prospettiva, noi vediamo invece occhi da parte di chi guarda dall'alto per mettere le mani nella nostra città. Noi se abbiamo costruito un progetto civico e lo abbiamo portato avanti e continuiamo ad essere civici è solo ed esclusivamente per un motivo. Non permetteremo mai a nessuno che non conosce il nostro territorio o lo conosce per terze persone che possa appropriarsi direttamente o indirettamente del nostro territorio e del lavoro che questa amministrazione ad oggi ha fatto. Quindi questo lo contrasteremo con tutta la nostra forza. Abbiamo ancora tanti consiglieri comunali in aula che ovviamente difenderanno il nostro territorio e lo faremo anche fuori dal palazzo di città perché ci contraddistingue da sempre questo modus operandi che è solo ed esclusivamente per la città. Solo fuori dal governo o anche dentro l'opposizione? Noi siamo oggi fuori dal governo della città. Non ci è mai piaciuta la parola opposizione perché questo governo lo abbiamo voluto noi. Noi continueremo, i nostri consiglieri comunali di una buona idea continueranno a valutare atto per atto quello che c'è appunto da votare che serve veramente per risolvere i problemi della città. Sicuramente non saremo seduti al governo della città.